Grazie a tutti. Iniziamo la prima gara nazionale per la nuova corposta della categoria di tutti i miei figliati di casa, i segniati della prima gara nazionale a dinaggio sincronizzato sono preferi signor Massimo Corbantini, assista, preferi a sede signor Walter Duico. Giudice numero 1 signor Massimo Corbantini, giudice numero 2 signor Lorenzo Cannavini, giudice numero 3 signora Valentina Barcovo. Armello Depp, tecnico controllo signora Michele Cesare, tecnico specialista signora Cristina Pastorelli, categoria junior. e vista la squadra Bob Schimers. Applausi a tutti i miei figliati di tutti i miei figliati di casa, i miei figliati di casa. Applausi a tutti i miei figliati di casa, i miei figliati di casa. Grazie. 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 Grazie.